Ciao a tutti, sono Vittorio di Capellissimo.com e oggi parleremo di olio da barba. Prima di cominciare però vi chiedo di seguirci sul nostro canale YouTube iscrivendovi e dando la campanina, in modo che sarete avvisati ogni qual volta caricheremo un nuovo materiale e poi nei commenti scriveteci gli argomenti che più vi interessano in modo che potremmo fare dei nuovi video. L'olio da barba è il cosmetico più importante per la cura della vostra barba, ancor più che lo shampoo e il balsamo. Va applicato quotidianamente e sia quando ancora in fase di crescita ma anche quando la barba è lunga. Per esempio io la uso ogni giorno per la mia barba che è ancora piuttosto corta. Questo qui perché serve a renderla più forte, quindi quando sta crescendo ma anche quando ormai è lunga e oltretutto sarà più luminosa e più morbida e verrà meno quel fastidioso plurito che si genera quando comincia a crescere la barba. Uno dei migliori oli da barba è quello di fondo natura, questo qui, che trovate disponibile sul nostro sito capellissimo.com dove c'è tutta una sezione dedicata ai prodotti per la barba e la rasatura realizzati da fondo natura. Infatti di questa azienda abbiamo anche lo shampoo da barba e poi la crema modellante per i baffi. In più esiste uno speciale kit, il barber kit di fondo natura che è ideale magari per un regalo o per provare questi prodotti, comprende l'olio da barba e lo shampoo da barba. In più fondo natura ha anche prodotti per la rasatura o per la bellezza o la salute dei capelli. Sono prodotti realizzati qui in Italia utilizzando unicamente ingredienti naturali e sono disponibili sul nostro sito capellissimo.com. Potrete comprarli ad un prezzo inferiore rispetto ai saloni di bellezza, quindi approfittatene. Vediamo adesso come si usa l'olio da barba di fondo natura. L'applicazione è molto semplice, va fatta su una barba umida, io adesso ce l'ho asciutta. Lasciate cadere un po' del prodotto nella mano, poi strofinate per bene e fatelo passare sulla vostra barba. Ricordate anche i baffi che spesso vengono trascurati, la mia è abbastanza corta, ma quando la barba è lunga dovete anche andare con le dita così e ripassarle in modo che vada su tutta la barba. In questo modo, spero che si veda dalla camera che non sta mettendo a fuoco, la barba apparirà molto più luminosa oltre che morbida e anche la profumazione è molto gradevole, veramente un buon sapore. Potrete trovare l'olio da barba e i prodotti di fondo natura sul nostro sito capellissimo.com. Se vi interessano prodotti per la cura e la bellezza della barba o la rasatura, esiste una sezione che si chiama barba e rasatura, oppure ci sono anche gli sciampi e altri cosmetici per i vostri capelli. Quindi visitate il nostro sito capellissimo.com. A cosa serve l'olio da barba? L'olio da barba è un cosmetico che serve principalmente a nutrire e idratare la barba. Questi nutrienti fanno sì che la barba rimanga più forte e evita non solo che si spezzi, che si rovini. Inoltre l'ammorbidisce molto e la rende più luminosa. È un prodotto assolutamente necessario per chi vuole mantenere una barba, se no, come dicono in molti si finisce per passare da barbuti a barboni. È importante tenere cura della barba perché è esposta a tutti i fattori inquinanti, anche quando mangiamo ci sono sempre dei triti che rimangono intrappolati nella vostra barba. Quindi è bene pulirla con uno shampoo adatto, per esempio come lo shampoo di fondo natura, e idratarla con l'olio idratante. Se poi avete dei baffi belli e particolari, vi consiglio anche la cera modellante per baffi, in modo da poter meglio definire il vostro taglio del baffo. Tutti questi prodotti di fondo natura li trovate sul nostro sito capellissimo.com alla sezione barba e rasatura. Con questo è tutto, vi chiedo di mettere un mi piace a questo video e di seguirci sui nostri canali. E ricordate anche di scrivere nei commenti gli argomenti che più vi interessano, così potremo caricare del nuovo materiale. Quindi vi aspetto ai prossimi video del nostro canale capellissimo.com, vi invito anche a seguirci sul nostro sito dove c'è un blog molto approfondito con un sacco di argomenti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!